Oggi c'è il mio pazzo dell'amico Nick che praticamente mi farà fare tante cose pazze, ovviamente pazzo su Minecraft E mi avvelenerà e mi farà tante di quelle cose, io ovviamente mi sono già preso il legno Che così posso direttamente passare al punto, andare a prendere la cobblestone Oggi sarà tipo come se iniziassimo una vanilla normale, ma lui cercherà di darmi fastidio infatti E Minecraft, ma il mio amico mi dà fastidio perché è cattivone, è su Minecraft ovviamente E quindi adesso, e io, niente, vado a fare le mie cose Però lui intanto chiaramente cercherà di ostacolarmi nel qualsiasi modo Infatti se vedete qua c'è lui in questa appunto coso qua, come che si chiama E poi a volte andremo nella tab, e poi a volte andremo anche a parlare con lui ragazzi Tipo scenderemo eccetera eccetera, anzi se volete vedere guardate per esempio Nick sei cattivone su Minecraft però eh Ma perché? Cosa ho fatto? Eh perché mi vuoi fare del male, io lo so Ma non è vero, cosa stai dicendo? Eh sì 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 certo come no, vai a raccontarlo a qualcun altro E adesso mi sono andato nella mia stanza bellissima Perché veramente io sono offeso totalmente con il mio amico Nick Perché praticamente lui adesso, scusate un attimo ma se io sto cercando di fare una cosa Ok perfetto, cerchiamo di farla nel migliore dei modi Tipo mi faccio un bellissimo piccolone in pietro Ovviamente mi faccio anche una spada perché chiaramente su mina a crufta Ovviamente va fatta anche la spada E poi ovviamente, adesso cosa faccio? Ovviamente ho anche magari un'ascia perché chiaramente è importante pure l'ascia Non chiedetemi perché, eccoci, ha già iniziato Lo sapevo, lo sapevo io che aveva già iniziato Perché vedo tutto quanto zoomato? Non è normale come cosa Oh, slowness e resistenza Resistenza 4, ma che caspita di enchantment è questo? Non ne ho la più palida idea però rompe le pa- Oh mio Dio no Dai che pizza, per favore Che non riesco a muovermi di 2 mm Non riesco a muovermi Dai Su via Non riesco a muovermi Eh su, ma per favore Sto cercando di muovermi Oh, oh, so io Vabbè, comunque, non so perché ma mi era preso un attimo Un accento particolarmente particolare ma molto carino E adesso io vado un attimo a vedere Aha, a prendere del cibo Perché il cibo chiaramente è importante per sopravvivere, no? Tutti noi mangiamo per sopravvivere E quindi, giustamente, si fa questo ed altro per sopravvivere Cosa sto dicendo? Allora, mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo Chiaramente non... Allora, io uccido gli animali solo su Minecraft però Chiaramente, ovviamente Quindi, bene Ovviamente Ovviamente, cioè nel senso mi pareva ovviamente ovvio E quindi adesso questa cosa qua che io sto facendo La sto facendo Quindi non dovete... Cioè nessuno si debba offendere, ok? Perché sto uccidendo ma dei polli su... Eccoci Su Minecraft Però se sto qua mi ammazza prima del dovuto Sapete com'è? Diventa un po' complicato farsi anche solo da mangiare Ma che caspita... Ma perché ci sono delle frecce? La cosa è stato? Allora, adesso fra poco me ne vado in stanza da lui Perché lo detesto, sapete? Lo detesto proprio su Minecraft Ma lo detesto Non nella vita reale perché nella vita reale siamo amici Ma lo detesto su Minecraft Tranquilli ovviamente Non... Oddio mi... Ah, qua c'è Erobrine Lo sapevo io No, non è... Allora Se pensi di fare Erobrine Guarda che ti sbagli di grosso Brutto putzacione Ma non sto facendo niente Sto prendendo una pietra E io mi chiamo regina Elisabetta Seconda Ok? Che non è la regina di Inghilterra E tu puoi chiamare come vuoi Non sto intendendo la regina di Inghilterra Ma sto intendendo la regina di Minecraft Ventordici Che è un nuovo tipo di Minecraft Quindi... Aiuto! Forze dell'ordine! Rinforzi! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Rinforzi! Aiuto! Aiuto! Io ti... Ah! Non parlarmi mai più! Guardate voi che... Me ne devo andare proprio pure schiacciando... No, oh sto morendo eh però Oh sto morendo Cioè ho un... Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Porca puzzona Porca puzzocrocozzona Cosa vuoi tu? Mi stai guardando male? Vuoi che ti faccia... Vuoi che ti faccia fuori? Sto scherzando chiaramente Maialen Ehm... Quel che caspita sei Volevo dire... Cavallo Giusto? È un cavallo questo? Sì sì è un cavallo Ma sì ma... Tutti sanno che questo è un cavallo Adesso vado a prendere pure il resto del cibo Dai però Che rottura di pallo Insomma Non ho pazienza Ad aspettare il cibo Ah che begli alberelli Che ci sono lì dietro Questi scurreggioni No sto scherzando chiaramente No allora Sono scurreggioni di ossigeno Chiaramente Giusto? Credo di sì Però cioè nel senso Ovviamente non... Allora Mi dissocio totalmente Non voglio far passare un messaggio sbagliato Però gli alberi sono molto importanti Perché fanno ossigeno Quindi dovrebbero essercene di più Anche nella vita reale Allora in ogni modo Comunque sto andando A fare un po' di cose Tipo a prendere dei minerali Perché mi devo fare un tipo Un'armatura di ferro Con sto ring Che praticamente mi sta dietro No? Perché mi vuole far fuori Ehm... Non so se avete visto Ma prima mi ha ucciso E non so se ve l'ho fatto vedere Però comunque sì Prima mi ha ucciso E quindi questa cosa mi ha fatto Un po' Un po' Un po' innervosire Diciamo Ora sono in caverna Ma ho purtroppo Weakness Che praticamente sto Caspito di coso Allora Cattivore Che non sei altro Come ti per me Ma per cosa? Non sto capendo E perché Io stiamo qua che sto prendendo Il mio ferro E non sto facendo nient'altro Sì certo Comunque Guarda che dovresti toglierti L'invisibilità E io te l'ho detto 20 minuti fa Io non ho l'invisibilità Dai per favore Non scherziamo Non scherzare con Duny Ma non sono io che sto facendo Queste cose Ma soprattutto cosa Che ti sta accadendo Sì 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 Quindi praticamente Tu mi stai dicendo Che mi stai facendo Uno scorzotto No Ma non sto facendo niente Io in realtà Eh sì sì E io mi chiamo Gian Giuberto II E infatti Mi hai pure bevuto dietro Ma che caspita Di sciocchino sei Ma io non ho fatto niente Eh no Non hai fatto niente Sì Hai bevuto il latte Vero secondo me Ah eccoti qua Ciao Ma io non ho bevuto il latte Ma io non ho fatto niente Com'è questo latte? Buono? Di chi è soprattutto? Molto buono Aia Ciao 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 Allora come Ah è strano Non ti posso colpire Però vero? Eh È proprio strana questa cosa Beh chissà come mai Cioè veramente Eh chi lo sa Ma boh Comunque niente Vado Niente io Sì sì niente niente Certo certo Eh però adesso vado a prendere Anche tipo del ferro Qui un pochino Perché chiaramente Mi serve per la mia vanilla In da solo Ovviamente in singolo Dove tu non ci sei Ovviamente Perché Perché non ci sono? Perché mi stai rompendo le palle Questo tuo Cioè nel senso Non ho capito io Perché devi rompermi le palle Però Perché è divertente Ok Ah quindi lo stai facendo Ho capito Va bene Certo È ovviamente È previsto Certo 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 Allora praticamente Vado qua so Come faccio a salire qua sopra Però Certo che comunque Potevo pensarla prima Aiutami Teletrasportami Invece che stare lì No Non lanciarmi le pozzini Devi teletrasportarmi Lassopra Forza Forza No no Con la bacchetta Devi Immediatamente vai Sali su Veloce Forza Ma dove su Su ovviamente Dal burrone Nick Oddio Adesso ti Ti farò Sì certo Parla benissimo Quanto parla bene Questo ragazzo Da 1 a 10 Secondo me è 20 Molto molto Sì 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 Comunque è certo che Poi dopo Comunque Vabbè Ah ciao Come stai caro Grazie Bene Bene Mi fa piacere Che tu sia così Rinco Mi fa molto piacere Comunque Sì 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 Che tu sia così Sbris brusito Che non vuol dire niente Allora su parla vanilla Insieme a te Su minecraft Chiaramente poi intendo Eh sì Sì certo Vieni con me Tanto ho capito Che non ti scollerai Di dosso A meno che io non ti banni Però questa cosa Mi sembra un po' drastica Quindi eviterò di farlo Allora Poi cos'altro si fa in vanilla Quando si ha il ferro Si fa ovviamente Si fanno gli attrezzi di ferro Si fa l'armatura Sì 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 E poi dopo l'armatura Stai parlando basso Si fanno tipo Ah però Prima mi devo mettere la fornace Dai che parla Io volevo farmi la fornace Volevo farmi Yeah Allora Io sono nervosito Proprio tanto Però scusami Adesso io faccio una cosa Perché non posso più Di aspettare Con questa fornace Stupida fornace Devi svegliarti Svegliati Fornace Grazie mille Per questo ferro Inutile che mi hai dato Perché io non avevo Proprio voglia Di aspettare la fornace Cioè dai per favore Chi è che nel 2021 Aspetta una fornace Chi è che ha il tempo Di farlo Che ognuno Tipo ci sono I Sia i bambini Che tipo Magari hanno un'agenda Tipo piena Di impegni Come se Non lo so Manco tipo Il capo d'ufficio Più importante Di questo mondo C'è là Invece pure i bambini Ce l'hanno qua L'agenda Cioè praticamente Funziona così E al giorno Chi è che ha tempo Di aspettare una fornace No Se tu ti fai la tua partita Su minecraft Non hai tempo Perché poi dopo Due minuti dopo Devi aspettare Che Cioè devi andare A fare le tue Mansioni classiche Cioè chiaramente No Quindi adesso Io adesso Ho detto qualcosa Di sensato Praticamente Andrò a fare Cosa mi hai messo Ancora Cosa stai facendo Stai parlando basso Nick Oh almeno questo Eh grazie Non mi hai messo niente Sì come se io Non lo vedessi Guarda Proprio niente Cos'è che hai allora Oh slowness Resistenza 4 Che non so cosa sia E weakness Che caspita E weakness E resistenza 4 E debolezza E resistenza 4 Che caspita è Oh La resistenza Non so come si chiama Eh bene Allora rispondi però Velocemente Eh ho capito Vabbè comunque Qua ci sono una serie Di capre Ciao capra Come stai Io ti vedo zoomata Perché quelli Cattivone mi ha messo Su minecraft Mi ha messo Queste robe qua Che non so nemmeno Come si chiamino Effetti Ciao effetto Come stai Sono molto lento Ah Dai pure il veleno Pure il veleno Ma smettila Che schifoso Ma non ti ho dato che era il veleno C'era un serpente Ti ha morso Sì Hai ragione forse Perché tipo C'era anche nei pressi di un albero Quindi può darsi che sia scelta da una fronda E tipo mi abbia morso il collo Chiedo scusa se c'è qualcuno che ha la fobia dei serpenti Sì però sta anche piovendo Questa cosa non va più bene adesso Perché non è normale No sta anche nevicando Eh vedo guarda Il mio schermo è pieno di particelle Quindi dovresti invocare Facciamo la danza Del sole Un due tre Danza del sole Un due tre Danza del sole Un Due E tre Forza danza del sole Oh bene grazie Vedete il sole Oh che bello Il sole mi ascolta comunque Cioè A parte tutti Pure il sole mi ascolta A parte Nick Cioè Vi rendete conto di questa cosa Cioè è stranissima comunque Vabbè Comunque niente Speriamo che questo Minecraft Difficile Con il mio amico Che mi rompe le pap Spiterine Se vi siano piaciuti Ovviamente vi sia piaciuto E Scrivetemi nei commenti Se vi è piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao